Era il 25 maggio del 1992, il giorno dei funerali del giudice Falcone, di sua moglie Francesca Morvillo e dei tre agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Di Cillo e Antonio Montinaro. Due giorni dopo la strage di Capaci, la terribile strage che fece saltare in aria un pezzo, un tratto di autostrada la 29 in direzione Palermo all'altezza di Capaci, la strage compiuta dalla mafia da Cosa Nostra con circa 500 kg di tritolo e la strage che portò alla morte appunto di Falcone, sua moglie e tre agenti della scorta. Vito Schifani era tuo marito, noi ti diamo il benvenuto, ti ringraziamo Rosaria per essere qui con noi oggi a raccontarci, a portare la tua testimonianza. Tuo malgrado sei diventata in quei giorni e poi sicuramente sei rimasta anche negli anni la donna che è testimone di quello del dolore che ha squarciato le vostre vite ma l'Italia intera. Tutti ricordano il tuo grido di dolore, il tuo pianto, il giorno dei funerali. Che ricordo hai di quel giorno? Lì mi ritrovai con questo foglio preparato da Don Cesare, tra l'altro anche mio cugino e mi disse, te la senti di leggere questa lettera affinché possiamo dare un senso di pace, di perdono, un messaggio di speranza a tutta la comunità? Io dissi in quel momento sì, ma nel mio animo avevo questa ribellione che poi mostrai a tutti. E' stato come dire, volete collaborare? Questi sono i modi, i termini in cui dovreste farlo, col perdono da parte mia, ma col vostro collaborare e raccontare il perché. Poi mi ricordo tutti questi politici lì davanti e dissi che la mafia era lì. Ecco dove nasce la ribellione. Come hai saputo, come hai avuto la notizia di quello che era successo, che ricordo hai di quel giorno? Erano le 17.15 quando una telefonata mi avvisò della morte di mio marito. A un certo punto ho squirlo al telefono e ho risposto al telefono e dall'altra parte della cornetta il nostro amico mi disse, Rosaria, ciao, come stai? Proprio così, dov'è Vito? Vito sta lavorando e con Falcone. Sai perché è successo un attentato del giudice Falcone? Da quelle parole io percepisco che qualcosa di grave era successo. Lascio mio figlio a mio suocero, all'epoca aveva 74 anni, senza pensarci su. Lascio questo bambino a mio suocero, corro per strada, trovo un passaggio e vado verso la casa di Falcone, perché lì c'è sempre un presidio della polizia e chiedo notizie di Vito. Mi dicono, preoccuparti, Vito è ferito, devi correre in ospedale. Corri in ospedale e lì successe che... Ti ritrovassi di fronte a quello che era successo. Mi ritrovai lì davanti a un fatto compiuto, cioè una situazione veramente, tutti i parenti che piangevano, una situazione veramente irripetibile, una cosa pazzesca. Posso dirti che c'erano più di 500 persone lì, curiosi, parenti, polizia, giornalisti, perché era successa una cosa gravissima. Al che entro in questo obitorio, non mi fanno entrare sotto dove sono Vito Roccantonio, perché non sarebbe stato un bello spettacolo da vedere. e lì intanto cercai immediatamente un prete per poter recitare un Padre Nostro e un eterno riposo. E lì fu anche il tuo primo incontro con il giudice Borsellino. Incontrai Borsellino proprio sulle rampe dell'obitorio e gli chiesi aiuto, gli dissi mi faccia vedere. E lui era andato lì proprio per vedere i ragazzi. Per un saluto, un affettivo, perché anche lui li conosceva. Io so che tu in particolare volevi andare via da Palermo, poi andassi anche negli Stati Uniti, raggiungessi dei tuoi amici, perché il tuo naturale istinto fu quello di scappare. L'istinto. Però Borsellino ti disse questa terra diventerà bellissima, non te ne andare, il futuro è come una scala, io non salirò ai primi gradini, tu arriverai in cima. Te la ricordi questa... Sì, mi ricordo quando la disse a casa sua nel suo immenso salone, mi ricordo che mi ospitò, mi raccontò della sua famiglia, del suo lavoro per quello che poteva raccontarmi, e mi accolse quasi come una figlia, come una parente. E questo che mi rese fiera di essere accanto a questa persona straordinaria, umilissima, e lui ci credeva. Lui pensava di arrivare al dunque, perché già sapeva tantissime cose. Mi disse, dobbiamo lottare insieme, perché tu stai facendo un bel lavoro, perché dopo i funerali ci sono stati dei cambiamenti, ci sono stati dei pentiti, infatti me ne nominò uno, Pino Marchese, mi disse che stava cominciando a collaborare, perché si vergognò dell'atto criminale che aveva fatto, non lui personalmente, perché lui si trovava in prigione. Pare che abbia detto Giuseppe Marchese, che è appunto legato al clan dei Corleonesi, che era poi diventato collaboratore di giustizia proprio dopo la strage di Capaci, pare che abbia detto che quando ti sentì parlare, lui provò un senso di vergogna. Sì, me lo confermò l'allora ministro della giustizia Carlo Martelli, e anche De Gennaro, il capo della Criminal Poll di Palermo. E queste parole mi rincuorarono, perché avevo quella voglia di sapere la verità, di conoscere gli esecutori, i mandanti, per avere una certezza, ma tutto questo poi non avvenne, perché come sappiamo, 57 giorni dopo, uccisero anche il giuseppe Paolo Borsellino, e quindi questa certezza finì in una bolla di sapone. Ecco perché decisi di scappare via quasi, di portare il mio bambino e andare negli Stati Uniti per trovare un po' di pace, perché a Palermo in 57 giorni avevano ucciso 11 persone, ed è questo che mi fece capire che la giustizia non ci sarebbe stata mai, e del resto dopo 26 anni noi non conosciamo né gli esecutori, né i mandanti, perché ritrattano in continuazione, lo vediamo tutti i giorni. Quel giorno Vito non doveva essere in servizio, e per Sero la Vita i tre agenti della scorta che viaggiavano nell'auto che precedeva. Penso al destino, il destino alle volte ci lascia a bocca aperta, come si vuol dire, perché tutti e tre ragazzi quel giorno, sia Vito, Roccantone, non sarebbero dovuti essere lì, né tantomeno in quella macchina che si chiama Pripista, sarebbero dovuti essere dietro. Dietro. Hanno cambiato il posto e sappiamo cosa è successo dopo, che questa macchina venne catapultata a centinaia di metri, perché sotto avevano inserito 500 kg di tritolo. Tu sei anche tornata su quel posto. Sì, sono tornata nel 2012 e lì mi rendo conto quanto la mafia non è stata l'unica artefice di questa strage, perché troppe cose non tornano. C'è qualcosa di losco, di veramente diabolico sotto queste stragi? Tu non ami tanto andare in tv, non ti si vede, possiamo dire, mai. Non ami, mi spiegavi anche che non ami tanto neanche partecipare alle passerelle, un po' a volte si ha questa sensazione delle grandi manifestazioni, perché dici non voglio che la mia testimonianza diventi un'abitudine. Però ami tanto andare invece a parlare ai ragazzi nelle scuole, proprio per portare una... Sì, infatti, ritengo che i ragazzi siano il futuro e che possano aiutarci nel riscoprire la verità o l'essenza della giustizia e quello che manca oggigiorno. Il non lottare, l'arrendersi. Io l'ho fatto quando ero giovane, cercavo sempre di conoscere la verità. Adesso un po' mi sono... Si è affievolita questa ricerca e quindi l'unica speranza sono i ragazzi e credo che loro abbiano questa voglia, abbiano una coscienza più pulita, più fresca rispetto agli anni in cui ho vissuto questa tragedia. Tuo figlio oggi è tenente della Guardia di Finanza. Tu hai detto l'odio avrebbe potuto prendermi, eppure non mi è accaduto, perché io non sono come loro consacrati all'odio. E tuo figlio dice infatti non mi è stato trasmesso odio, ma amore. Credo di aver fatto un buon lavoro, più che altro spirituale, verso mio figlio, perché questo dare l'esempio, perché la vita cosa è fatta? È fatta di esempio, ho dato l'esempio a mio figlio di non giudicare, di non odiare queste persone, perché del resto poi se la vedranno col Padre Eterno. Noi non possiamo essere giudici verso queste belve, perché sono belve chi uccide, chi pensa che la vita umana non abbia valore, perché per questi assassini non ha valore la vita umana. Guardando Vito sembra di guardare una persona che fa parte della nostra vita, perché la storia di Vito è la storia di Rocco, la storia di Antonio, la storia del giudice Falcone, il giudice Borsellino è la storia di tutta l'Italia. Noi, è vero. Loro rappresentano i nostri figli, i nostri mariti, perché Vito quando morì aveva 27 anni. Vito era un ragazzo straordinario, non perché fosse stato mio marito, era mio marito, è perché amava la vita, era un ragazzo di 27 anni, a cui piaceva viaggiare, volare, lui era un pilota di secondo grado, e piaceva tanto vivere la vita come i ragazzi della sua età. Quel giorno maledetto, purtroppo, la sua vita è stata spezzata, il suo futuro. C'è una cosa che mi ha colpito tantissimo, dei tuoi racconti, legati anche a quel periodo. Tu racconti che all'inizio andavi al cimitero ogni giorno e portavi con te anche Emanuele. E la cosa assurda è che accanto a dove era seppellito Vito c'era la tomba di due fratelli appartenenti ad una famiglia mafiosa e tu vedevi la mamma che piangeva la morte dei suoi figli. Che cosa pensavi in quei momenti? Pensavo che due mamme nello stesso tempo, perché c'andava anche mia suocera, piangevano lo stesso figlio. Ma due mamme diverse. Due mamme sì, a cui avevano tolto il bene più prezioso, il figlio. C'è una differenza paradossale. Il figlio morto ammazzato di mafia e il figlio morto a causa della giustizia. Sono due morti diverse. Sono sì due figli. Però voglio dire, tu madre avresti potuto andare dal figlio e dire figlio cosa stai facendo? Salvati la tua vita, salva la tua famiglia, perché noi abbiamo questo potere, noi madri, noi genitori, abbiamo il potere di salvare i nostri figli, dando questa testimonianza, insegnandogli che nella vita chi sbaglia finisce male. Cioè, sono piccole cose a cui non dovremmo dare molta importanza. Avevi 22 anni e tuo figlio 4 mesi e tu ti chiedevi giustamente cosa avresti detto a tuo figlio nel momento in cui ti avresti chiesto perché non ho un padre. e dici che la risposta racconti che andasti a chiedere alle donne. Le donne colpite al cuore come te, Rita Costa, Giovanna Terranova, Maria Giuliano, Laura Cassaraga, Tina Chinnici, Irma Mattarella e altre, tutte mogli di magistrati, poliziotti, uomini politici uccisi dalla mafia. Loro che risposte ti davano? Ognuno mi dava una propria risposta. Ho conosciuto queste donne tramite un nostro amico giornalista e il compito mio era quello di capire, io volevo capire per queste donne perché non avevano avuto giustizia, perché queste morti continuavano ad esserci ogni due, tre anni veniva ammazzato un poliziotto, un giudice o un procuratore o un funzionario della regione come il Pier Santi Mattarella il fratello del nostro Presidente della Repubblica e volevo capire ma queste donne non mi davano delle risposte certe, mi raccontavano la loro storia, i loro problemi con la giustizia nel senso opposto perché non venivano le volte, i processi non venivano portati a termine, stavano per decenni ancora ad aspettare una verità e queste donne alla fine non avevano una certezza sul perché di queste morti o avere un senso della giustizia ed è per questo che alla fine mi resi conto che avrei dovuto scappare via da Palermo cioè rifarmi una vita e dare l'opportunità a mio figlio di vivere una vita serena e non essere perché c'era anche questo problema di non essere additato come il figlio del poliziotto ammazzato e quindi il mio compito che qual era? Quello di dare una sicurezza una vita gioiosa ad un bambino ed è quello che io ho dato io posso dire di aver avuto aver dato l'amore a mio figlio e questo sono molto contenta di questo hai fatto un ottimo lavoro penso proprio di sì i fatti te lo stanno dimostrando i fatti quando lo vedi in divisa che cosa pensi? Penso che intanto un ragazzo straordinario è una bravissima persona e questo già per una madre è un successo è un successo e rivedo Vito rivedo Vito e mi convoco Gli somigliava? Non si somigliano tanto Sai che cosa? Nella gestualità Te lo ricorda? Lo rivedo nella gestualità è incredibile come la natura possa aiutarci su questo perché non l'ha mai visto Hai anche detto una frase bellissima lo vedo negli occhi di mio figlio con la divisa alla tenente della guardia di finanza lo vedo negli occhi del figlio di Borsellino con i successi che i giornali raccontano da bravo commissario della polizia lo vedo nel figlio di Boris Giuliano adesso al vertice dell'anticrimine in Italia i nostri figli uomini dello Stato che marciano a testa alta i figli degli assassini braccati in carcere costretti a volare basso noi non abbiamo vinto perché il cuore ha cicatrici che non si rimarginano ma loro hanno perso tutto hanno perso tutto la libertà il fatto stesso che io possa uscire e possa guardare la vita con gli occhi di una persona pulita di una persona che non commette omicidi di una persona che non ruba è la parte più bella della vita penso che loro vivano come dei topi mi ricordo che una volta dissi loro vivono quando ero giovane dissi questi uomini vivono braccati come dei topi nascosti è bello vivere la luce del sole loro non se lo possono permettere perché sono latitanti molti di loro sono stati latitanti o devono vivere sempre con l'ansia con la paura di farsi prendere loro non cambiano lo pensi anche oggi sì più che mai penso che l'uomo quando intraprende una strada è difficile che possa cambiare un criminale se non riesce a pentirsi se non si inginocchia davanti a Dio e chiede perdono veramente dei mali commessi credo che c'è differenza tra il pentito e chi si pente veramente il pentito lo fa per uno scopo economico per i benefici mentre chi si pente dinanzi a Dio è libero di poter di poter vivere di poter ricominciare di poter ricominciare perché Dio dà la possibilità di ricominciare però hai anche detto che siamo noi a dover cambiare anche nella nostra vita quotidiana nel non accettare anche le piccole illegalità nel dare quotidianamente anche una testimonianza che una vita nella legalità è possibile soprattutto in famiglia chi è insegnante nelle scuole facendo sì che tutti i ragazzi possano essere sembra una banalità tutti uguali anche nella classe le volte ci sono anche delle distinzioni e quello è non dare il senso della giustizia cioè la giustizia è molto semplice che raccontare questa mia storia mi ha dato l'opportunità di dare la testimonianza a chi ha bisogno magari in quel momento si sente di aiutare un familiare che sta attraversando un momento critico che magari sta mettendo il piede verso la fossa nel senso fosse come crimine e allora in questo modo ognuno di noi dà la propria testimonianza e diamo un aiuto a chi ne ha bisogno perché la mafia è morte la mafia è buio chi intraprende quel cammino va a finire dentro un baratro dove non c'è luce e dico anche le mogli degli assassini dei mafiosi non dovete essere contenti di questi soldi l'illecito dovete essere contenti quando uscite di casa e avete i vostri mariti e avete questa possibilità di non essere braccati la moglie del mafioso lo sa il lavoro e l'illecito che porta il marito a casa ed è questo il compito di questa moglie è quello di redimerlo di portarlo nella strada giusta perché da quella strada non si esce purtroppo si esce in una bara la vita è un dono bisogna viverla bene perché si ripete sempre cerchiamo di non sbagliare perché questo dono lo dobbiamo tenere stretto non abbiamo tante abbiamo solo una di vita so che abbiamo un amico in comune che sei venuta padre Pio padre Pio è veramente un amico perché nei momenti alle volte bui tristi senza scavalcare Gesù il padre eterno io lo chiamo lo chiamo sempre e sei qui approfitti anche di diciamo di questo tuo viaggio per venire a ringraziare ringraziare Gesù che mi ha dato questa forza questa energia di poter crescere mio figlio in questo modo non ha scelto una strada facile ha scelto una strada in salita perché chi occupa quei posti lì ha delle responsabilità verso se stesso e verso anche gli altri verso la collettività è una testimonianza vivente quella è una testimonianza nella vita uno può raccontare tante cose ma ci vogliono le prove le prove sono le testimonianze come sei anche tu una testimonianza vivente io spero di di essere di meritarmi il paradiso perché ci tengo questa è una battuta un po' grazie mille Rosaria grazie a te grazie davvero grazie mille grazie a te